Tocca al sottoscritto riepilogare un attimo le cose. Ma come mio solito lo faccio alla mia maniera, nel senso che credo di dover inquadrare l'aspetto politico della vicenda più che l'aspetto tecnico. L'aspetto politico della vicenda, secondo me, è che la buona scuola nasce in un periodo politico storico in cui qualcuno pensava o ha pensato che la riforma del titolo quinto della Costituzione fosse una passeggiata e ha buttato avanti tutta una serie di norme che si sarebbero dovute concretizzare con una modifica di quel titolo quinto che invece non c'è stata. Le norme della scuola attuale, così come quelle di altri settori, per carità, risentono sicuramente di questo. E ci sono una serie di contraddizioni. Prima fra tutte io penso di evidenziare che la scuola, esattamente come tutto il discorso dell'istruzione, è materia di legislazione concorrente. E faccio un parallelismo semplice. Mentre la sanità, che è altrettanto legislazione concorrente, è trattata solo per quanto riguarda il piano sanitario nazionale e quindi, diciamo, la programmazione degli obiettivi di salute e basta, e poi tutto il resto è organizzato dalle Regioni, nella nostra Costituzione la scuola è, nella stessa maniera, è posizionata altrettanto a legislazione concorrente, ma tutte le norme che ne sono venute nel tempo sono state fatte invece come se fosse di materia esclusiva dello Stato. Questo naturalmente porta a una serie di problemi dal punto di vista legislativo e dal punto di vista del contenzioso con le Regioni e del contenzioso in genere, che non è da poco. Vi compreso il fatto che, naturalmente, tutti gli attuali decreti delegati in qualche modo debbono passare dalla conferenza Stato-Regione per il parere. Ora, cosa è successo nella sanità l'altro giorno? È successo che la Corte Costituzionale ha bocciato le norme delegate della Madia, quindi addirittura della riforma del pubblico impiego in generale, laddove alcuni decreti delegati sono stati fatti, sentita la conferenza Stato-Regione e non concordato con la conferenza Stato-Regione. Ora, non mi risulta che alcuna regione oggi abbia fatto ricorso alla Corte Costituzionale rispetto all'applicazione dei decreti delegati o all'applicazione della 107, ma non vuol dire che non accada quando questo ci sarà con la riscrittura del testo unico. se questo Governo dovesse comunque fare in tempo a espletare quella delega, perché mi risulta che non abbia molto tempo sufficiente, o se questo Governo dovesse avere il tempo di farlo alla luce del fatto che si sta parlando di elezioni. e qui entro naturalmente nella logica della natura contrattuale del sindacato e del fatto che stiamo facendo il discorso dei contratti che dovranno essere fatti. Caterina prima ha detto, meno male che le organizzazioni sindacali e Lara non hanno già fatto i comparti e questo naturalmente in qualche modo facilita il fatto che presto si comincerà a fare la contrattazione nazionale di lavoro. Ok, il comparto però non è più comparto scuola, è comparto istruzione, ricerca e via di seguito. Istruzione e ricerca. Istruzione e ricerca. che sono tre settori che oggi come oggi, anche se sono governati da un unico datore di lavoro, che è il MIUR, non potrebbero essere più diversi fra loro come norme contrattuali, come applicazione tabellare e come ragionamenti, diciamo, generali contrattuali. Quindi l'approccio contrattuale in qualche modo sarà un approccio complicato, sarà un approccio che durerà. A meno che non ci troviamo veramente che a giugno si va alle elezioni e quindi a maggio o ci pigliamo questo contratto o non ci pigliamo niente. Allora quattro norme verranno messe dentro, saranno norme così, come posso dire, generali, giusto per recepire l'accordo del 30 di novembre e naturalmente però questo sarebbe un contratto assolutamente a ribasso. E questo è un po' il problema che ci stiamo ponendo in questo Paese. che norme lunghissime, che hanno un'applicazione che va dai tre ai cinque anni con i decreti delegati, quindi necessitano di riaprire la delega, rimettere mano alla situazione. Nel frattempo è cambiato un altro Governo, l'altro Governo non la pensa più esattamente alla stessa maniera del primo e quindi in qualche modo ci sono i termini per cambiare qualche cosa. Perché faccio questo discorso che sembra in parte contraddittorio? Perché c'è l'accordo del 30 di novembre. L'accordo del 30 di novembre, che è stato un accordo puramente e meramente elettorale, che cosa ha posto sul piatto? Ha posto sul piatto la disponibilità a una nuova legge che modifichi praticamente i parametri della 15 e della 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, togliendo il famoso 30, scusate, 25, 50, 25 e naturalmente però in cambio di che cosa? In cambio dell'accettazione di un contratto di lavoro misero. Perché? Perché il contratto di lavoro che lì dentro è stabilito dice che si dovrà andare a 85 euro medie. 85 euro medie che dovrebbero essere date principalmente alle fasce più basse. Il che, tradotto in fuorisindacalese, diciamo così, significa che il contratto servirà al recupero del bonus fiscale degli 80 euro. Perché? Perché mentre le 80 euro sono sostanzialmente netti, perché sono defiscalizzazione, per coprire gli 80 euro con aumenti contrattuali a me servono 108 euro l'orde. Ma se la media contrattuale è di 85 e alle fasce più basse io devo garantire almeno 108 per poter andare a coprire, quindi ad annullare il fatto della perdita della defiscalizzazione, quanto resta per le altre fasce? Poco, molto poco. Quindi diciamo che la possibilità di effettuare un contratto, tra l'altro, tra l'altro, cosa non da poco, attualmente, cioè nelle leggi di bilancio del 2016 e del 2017, non ci sono i soldi stanziati per gli 85 euro, ma ci sono soldi stanziati per circa 30 euro medie. Il che significa che, per poter iniziare una contrattazione presto, sarebbe necessario nel DEF andare a stabilire quello che è il discorso successivo per poi aspettare per la sottoscrizione del contratto di arrivare alla prossima applicazione della legge di bilancio e quindi stiamo parlando di non poter sottoscrivere i contratti prima di dicembre, a meno che non li sottoscriviamo allo scoperto finanziario, cosa che io penso possa accadere solo in piena campagna elettorale. E questo, naturalmente, ecco il ragionamento. Torno a bomba sul discorso politico, invece. Andiamo ad applicazione. Qui la Rosanna prima diceva non mi è piaciuto quello che ha fatto la Gelmini, non mi è piaciuto quello che ha fatto la Moratti, non mi è piaciuto nemmeno quello che ha fatto Berlinguer prima. e va bene, la Rosanna è una molto difficile da accontentare e quindi ci sta che non gli piacciono le cose. Però la verità qual è? Che tutte queste norme non sono mai state portate ad un compimento pieno. Cioè ogni tanto qualcuno ha buttato lì alcune norme che andavano a intaccare alcuni settori ma il che cosa mi serve, che cosa voglio, cioè dove voglio portare questo settore, qual è il disegno complessivo, qual è il sogno che ho per questo settore, non lo ha mai detto nessuno. Giustamente si è intervenuti una volta per risparmiare, d'altra parte un settore che occupa oltre un milione di lavoratori è un settore in cui sicuramente c'è ciccia, come si dice, dal punto di vista della spesa e dall'altra parte si è andati a interagire per vedere se ci sono spazi diversi rispetto al passato. Ma anche qui ritorniamo al fatto che il governo e il ministro che hanno assunto questa legge già non ci sono più. C'è un governo in continuità, ma non è lo stesso. Ed è in continuità tranne che per alcune cose. Sono cambiate due aspetti, guardate, semplicissimi. È cambiato il ministro dell'università ricerca e della scuola ed è cambiato un sottosegretario alla salute che dalla salute è passato alla scuola. Queste sono le uniche due variazioni che ci sono state dal governo, ma il fatto che ci siano state queste due variazioni in qualche modo è significativo rispetto alla possibile ragionamento di continuità dal punto di vista della programmazione delle scelte. Quindi non c'è una vera e propria continuità. Ma non c'è una vera e propria continuità nemmeno addirittura sul ministro che è rimasto al suo posto. Perché quando la Madia va a sottoscrivere l'accordo del 30 di novembre si contraddice al 100% rispetto a quello che aveva detto fino a due minuti prima e cioè che la legge 15 e la legge 150 non le voleva ritoccare e così è stato fino a che c'è stato il governo Renzi effettivamente. Oggi quelle due cose che erano uno scoglio che erano uno scoglio effettivamente invalicabile per sottoscrivere un contratto sarebbero rimosse ma non lo sono perché serve una legge una legge che è stata promessa e che in teoria dovrebbe arrivare. Ma se la buona scuola è stata presa in un contesto filosofico in un contesto politico in un contesto con cui c'era una certa idea di dove sarebbe andato il paese quindi un paese in cui la Costituzione sarebbe cambiata un paese in cui la legge doveva essere maggioritaria con una faccia inutile che ripeto tutte quelle che sono i passaggi e oggi la stessa legge viene contestualizzata in un paese in cui la legge maggioritaria non c'è più la legge brunetta fra virgolette non ci dovrebbe essere più il ministro nuovo ha sottoscritto un accordo sulla mobilità che blocca gli effetti della 107 per i prossimi tre anni i segnali che l'applicazione di questa legge possa essere parziale e in parte contraddittoria come è avvenuto con le precedenti io direi che ci sono tutti e il fatto che tutto questo avvenga mentre vengono approvati i decreti delegati ma non viene esercitato il diritto di delega per quanto riguarda il testo unico che sarebbe effettivamente il coronamento il dare un contesto il dare una cornice organica ad una legge ad un provvedimento legislativo anche questo mi dà come segnale determinante del fatto che la bussola rispetto dove si voleva andare sicuramente è persa e che si sta navigando a vista qui entriamo in una logica che è micidiale se si naviga a vista non c'è un orizzonte senza un orizzonte io se non ho una bussola non so dove andare no? perché questo è o è notte e mi faccio riferimento alle stelle o altrimenti il giorno non so dove andare non ho l'orizzonte non ho la bussola dove vado è un brutto è un brutto essere no? è un brutto modo di interagire allora io credo che il momento sia questo ed è il momento però in cui ci sono i decreti delegati dentro le camere credo che queste considerazioni politiche dentro dentro il Parlamento debbano essere fatte in modo chiaro determinante e deciso perché? perché se c'è una critica che noi facciamo questa critica deve essere sempre per mia abitudine costruttiva nel senso che è inutile che mi lamento di qualcosa per cui non ho dato le soluzioni e quindi è mia abitudine proporre delle soluzioni in questo caso non le ho non le ho da solo non le ho di sicuro no però però alcune situazioni si possono si possono delineare e la prima è che venga risolto il nodo cardine che è quello del rapporto legislativo fra lo Stato e le regioni su a chi compete perché le scuole sono di proprietà delle autonomie locali e quindi se gli edifici cadono a pezzi se ci sono problemi compete a qualcuno la programmazione dovrebbe anche competere a livello locale salva l'autonomia ma la programmazione dovrebbe competere a livello locale salvo poi che le decisioni legislative vengono prese come se ci fosse diciamo uno Stato centralista alla francese l'Italia dovrebbe a decidere che tipo di Stato è se è uno Stato centrale o se è uno Stato federalista io preferisco il secondo tipo ma è un'opinione personale non la impongo certo nessuno però è un problema perché se si sta sempre in mezzo al guado e non si decide di chi è la responsabilità fra virgolette le leggi che ne vengono fuori sono sempre delle leggi del cavolo sono sempre delle leggi che comunque sbagliano un obiettivo e comunque poi depredano un altro livello legislativo di quello che sono i suoi compiti e l'altro livello legislativo depredato dalle sue funzioni naturalmente si sente al sicuro nel poter dire ti sei appropriato di funzioni che erano mie anche se in legislazione concorrente arrangiati facci tutto quello che devi fare puoi però non piangere con me però in realtà non è così perché se noi avessimo l'applicazione di quello che è una costituzione che abbiamo dal 95 mi pare 95 il problema di questo 95 è uguale 99 non c'è 2001 no 2001 ti hanno bocciato la tua no 2006 mi hanno bocciato il 2006 comunque diciamo se ci fosse l'applicazione il problema dei posti fuori regione non ci sarebbe perché la programmazione starebbe dentro una legislazione regionale che sarebbe applicativa dei livelli minimi di istruzione determinati dallo Stato ma che poi dovrebbe essere fatta in maniera diversa oggi questo dovrebbe succedere in un paese normale perché questa è la legislazione che abbiamo a monte ma la legislazione che poi è stata assunta dal punto di vista scolastico non è questa è come se noi fossimo in uno Stato in cui il potere legislativo regionale non c'è tranne che le regioni potrebbero in qualsiasi momento impugnare questo tipo di legislazione davanti alla Corte Costituzionale per dire non è stato fatto l'accordo con noi e quindi non essendo stato fatto l'accordo con noi quella legge non è a posto torniamo sempre al cane che si morde la coda allora questo è un paese in cui ci sono otto livelli di governo con una serie di assemblee legislative importanti perché abbiamo cinque regioni a statuto speciale che hanno legislazione primaria anche per le materie che sono di natura concorrenziale e abbiamo una situazione in cui abbiamo un federalismo fiscale e non abbiamo un federalismo applicato per intenderci in tutto questo abbiamo un contenzioso con l'Europa perché il governo Monti ha deciso di delegare e di mettere dentro nella Costituzione in 20 giorni signori ricordo una legge costituzionale si può fare in 20 giorni perché in 20 giorni le Camere hanno fatto quattro passaggi per inserire il fiscal compact nella nostra Costituzione in 20 giorni ora noi abbiamo dicevo un contenzioso con l'Europa perché perché stiamo parlando di problemi di sovranità perché ci siamo messi noi nella nostra Costituzione nel fatto che dovevamo rispondere e dobbiamo rispondere di un parziale deficit lo 0 cos'è 0 4 0 3 lo 0 3 l'Europa ci dice abbiamo lo 0 3 da recuperare il che significa che nel DEF difficilmente potranno saltare fuori grandi somme per poter fare i contratti e quindi un esercizio di un diritto che è quello di avere un contratto naturalmente c'è stato negato dal 2010 in avanti con due leggi il collegato lavoro per intenderci c'è stato ridato il diritto alla contrattazione con una sentenza della Corte Costituzionale che però ha fatto salvo gli effetti fiscali delle manovre del collegato lavoro quindi ha detto che non abbiamo diritto al recupero del periodo interconnesso fra l'abolizione della contrattazione e la ripresa della contrattazione e abbiamo la necessità di recuperare un contratto sulla base di un parametro che non esiste più che è l'IPCA ora l'IPCA guardate il paradosso l'IPCA che è maturato per i conteggi fatti dal tesoro non dal sottoscritto è del 7.4% nel periodo 2010 2017 2016 un recupero del 7.4% si aggira sui 7 miliardi e mezzo 8 miliardi di euro necessari per tutto il pubblico impiego naturalmente siamo molto lontani dai 500 milioni attuali o dal milione sì dal miliardo e 8 diciamo che si ipotizza a regime per tutto il discorso triennale ergo ergo nessuno ci impone dal punto di vista sindacale di accettare l'accordo del 30 di novembre anche se naturalmente ha una serie di cose positive come quelle che dicevo e nessuno ci impone di correre dietro alla chiusura contrattuale domani mattina però invece coglierei l'aspetto positivo del 30 di novembre e cioè l'impegno del ministro Madia a riformare quelle norme della legge 15 e della legge 150 per riportare alla contrattazione quello che è la norma primaria perché è assurdo e vale per la scuola come per tutti gli altri comparti che io sia lavoratore privato di amministrazione pubblica ma che il mio contratto soggiaccia alla legge o meglio che la legge possa mettere il naso sul mio contratto per decidere come questo debba essere fatto perché in regime di diritto privato o noi torniamo alla Bassanini laddove le norme contrattuali hanno forza di legge così come nel privato o se così non è torniamo alla pubblicizzazione dei contratti e quindi ai DPR che recepiscono gli accordi tra virgolette di rinnovo contrattuale ma che sono dei DPR cioè dove il sindacato non ha la forza di imporlo davanti al giudice perché davanti al giudice ci vai con il DPR che stabilisce quali sono le tue norme e qui torniamo sempre allo stesso discorso cioè in ogni legge che noi abbiamo in ogni riforma che è venuta fuori per la pubblica amministrazione come per la scuola come per gli altri settori né vengono fuori delle norme munche che non decidono qual è la strada che noi dobbiamo prendere ma è un paese normale in cui il cane si morde la coda di continuo non è un paese normale siamo normali noi siamo normali noi sindacalisti che lo accettiamo no siamo sicuramente dei depravati nel senso che stiamo accettando di confrontarci con una controparte che non ci rispetta e che non ci dà la dignità di controparte perché lo fa in maniera in maniera surrogata e lo si è visto no in questo periodo allora qual è la mia posizione la mia posizione è chiara le norme devono essere di tipo privatistico quindi dal punto di vista contrattuale tutte le norme debbono avere forza di natura primaria la scuola deve decidere il governo il parlamento il parlamento io dico prima ancora che il governo deve decidere se la scuola sta o no in legislazione concorrente e se non sta in legislazione concorrente deve fare la modifica costituzionale perché se sta in legislazione concorrente tutto quello che riguarda la legislazione della scuola deve essere fatta con un accordo Stato-Regioni altrimenti è soggetta all'impugnativa migliora la situazione non lo so ma almeno abbiamo dal punto di vista legislativo un punto chiaro l'altro aspetto è evidente la regionalizzazione della programmazione porta ad una scuola diversa che se guardo il sistema spagnolo non è tutto oro quello che luccica perché in Spagna la regionalizzazione ha portato a diplomi diversi in regioni diverse e questo naturalmente non sarebbe assolutamente un grande avvenire come posso dire ma la programmazione non significa l'attuazione di percorsi scolastici diversi perché i famosi livelli essenziali dovrebbero essere determinati dal centro e determinati con accordo quindi c'è prima di tutto il paese che si vuole cioè qui se non decidiamo in quale paese vogliamo vivere è difficile decidere quale scuola vogliamo quale diritto alla salute vogliamo quale diritto al lavoro vogliamo quale tipo di futuro vogliamo per i nostri figli e questo naturalmente è un contesto che è un contesto generale che è molto più ampio di quello che riguarda solo la scuola ma lo faccio per dire che cosa lo faccio per dire che alla fine i lavoratori della scuola per quanto speciali hanno dei problemi che sono molto simili ai lavoratori degli altri comparti perché i loro problemi nascono da problemi che sono problemi che stanno a monte e che stanno sono problemi che sono nel paese in cui viviamo che poi si esplicano in comparti diversi con modalità diverse ma che sicuramente si esplicano in tutti i comparti e questo naturalmente è un aspetto di cui non si può prescindere e di cui noi abbiamo bisogno i nostri figli fanno fatica a fare politica io ho 58 anni quindi vedo chi ne ha 30 che difficilmente ragiona fra virgolette o rispetto alla politica come me o che ha lo stesso tipo di approccio ed è giusto ed è corretto io sono virgolette anziano lui vive nel suo momento il problema è che il suo momento è dettato dalle mie regole il suo momento è dettato dalle mie scelte e allora un momento di dialogo per capire cosa vuole e per capire come si deve contestualizzare questo è necessario alternanza scuola lavoro assolutamente sì potere terapeutico dell'istituto agrario assolutamente assolutamente eccezionale si apra molto di più però attenzione che sulla questione ad esempio della formazione professionale sono venute fuori delle guerre della madonna e c'è la guerra di religione rispetto al fatto della certificazione delle competenze invece che il valore legale del titolo di studio su quello c'è una guerra che si sta perpetrando in maniera in maniera cruenta dentro le regioni tutte problematiche che abbiamo sul tappeto su cui effettivamente è difficile avere una soluzione ma è importante secondo me che abbiamo ben chiaro almeno quali sono i problemi sulla soluzione dovremmo confrontarci ancora a lungo non so se abbiamo tanto tempo perché alla fine i decreti delegati 60 giorni stanno alle camere quindi per quanto poco tempo abbiamo per quanto poche soluzioni possiamo dare il mio motto è diamo quelle che abbiamo perché poi il tempo successivo cioè studiare una buona norma domani mattina per arrivare che le camere hanno già licenziato quella che non è buona è meglio che discutiamo subito e cerchiamo di migliorare quella che abbiamo però ben sapendo che siamo in un contesto in cui quello che abbiamo è stato assunto in un altro periodo politico in un altro periodo storico con degli obiettivi che ormai non ci sono più all'orizzonte e di questo noi dobbiamo tenerne conto correzioni quando si è in mare si fanno qualche grado alla volta puntando all'unica stella a cui riusciamo a intravedere e se riusciamo a puntare bene arriviamo in porto noi questo dobbiamo fare bisogna navigare per arrivare in un porto non sarà il migliore possibile ma dobbiamo arrivare in un porto perché se stiamo fuori in mare aperto non portiamo a casa niente e neanche la nostra pellaccia